Ah, comunque si sentono, eh? Io non pensavo così. Stamattina al primo giro sono arrivato full come con la Moto3 e sono arrivato e mi ha praticamente, mi si è sollevata da sola così e ho chiuso il gas al primo giro. Ah, lo chiudi, lo chiudi. Però dai, era più bello essere il primo del mondo a livello di tempi, però comunque dai, bello, fare i 300 con la moto, non mi è capitato tante volte.